Grazie mille, grazie. Noi siamo, come si è detto, Joypad, cioè corri, salta e spara. Corri, salta e spara. Abbiamo fatto 75, quasi, 74 puntate di questo podcast dentro al post, essendone un pezzo un po' particolare, la cosa si vede anche perché veniamo dagli Ittiti e adesso parleremo di Fortnite e abbiamo una compagine di ascoltatori affezionati che frequentano anche il nostro canale Discord e sono classicamente dei nerd. Vorrei che si sentisse il loro contributo, ma oggi pensiamo soprattutto al pubblico degli Urriti, al pubblico dell'Accadico che magari non segue i videogiochi e che potrebbe trovare interessante questa mezz'ora in cui vi racconteremo perché i videogiochi, non perché siano un luogo in sé geniale, profetico, oracolare, ma per come sono fatti, cioè per il fatto di essere insieme tecnica e racconto, di essere legati comunque alla giovinezza, di essere collegati all'innovazione tecnologica eccetera, i videogiochi sono un crocevia e quindi effettivamente cose che si vedono oggi rispetto alle quali il pubblico, tutti noi siamo un po' stupiti, a volte non sappiamo come orientarci, esistono nei videogiochi da anni, a volte da decenni e in questo i videogiochi sono molto interessanti anche per chi non ci gioca, cercheremo di convincervi di questo e cominciamo, vediamo se funziona, noi abbiamo un tempo ridotto, direi che questo favoritismo sugli Urriti rispetto alla Nintendo è veramente fastidioso, insomma sopportiamo anche questo e cominciamo col parlare del fatto che questi benedetti metaversi noi li conosciamo da un sacco di tempo. Da parecchio, adesso si parla di metaverso negli ultimi anni da quando Meta, che è la società di Facebook, ha deciso di ricostruire la sua immagine intorno a questo, però noi i metaversi, se avete una certa età e siete avvezzi ai videogiochi, li conosciamo da quando più o meno gira questo gioco qua che è Ultima Online, che è del 1997. Ora già il concetto di metaverso è ancora un po' sfuggente, non siamo a quello della letteratura in cui ci sono caschi di realtà virtuale ed è un'immersione totale, in maniera un po' più pratica, possiamo dire che per noi adesso il metaverso è uno spazio virtuale dove con il proprio avatar si possono fare delle cose, possono essere combattere un drago, possono essere commerciare, parlare con gli altri, questa cosa su Ultima Online si faceva dal 1997. Anche intessere relazioni sociali e in qualche maniera, insomma, trovare uno spazio altro che possa permettere di incontrarsi e di strutturare un po' queste relazioni. Esatto, questi mondi persistenti che fortunatamente sono un po' più divertenti rispetto a fare le riunioni su Teams in co-working con Zuckerberg. Anche quelli sono mondi che tendono a persistere ben oltre la loro utilità ma in un altro senso. Esistono dalla fine degli anni 90, si sono poi evoluti, sono diventati i live service game che sono i giochi quelli che andavano una decina d'anni fa, tipo alcune versioni di Call of Duty, lo stesso FIFA, si sono poi evoluti in quelli che forse adesso sono gli unici metaversi funzionanti realmente, che sono Fortnite e Roblox, che sono piattaforme giganti, giocate da milioni di persone, dove si può fare abbastanza tutto. Si può vedere un concerto, si può, per quanto possa essere bizzarro, vedere l'eclissi di qualche giorno fa, si poteva vedere su Fortnite. Senza però gli occhialini davanti al monitor, quella è un adesione. Si spegnava solo tantissimo e poi si spegneva e insomma noi non solo li abbiamo visti, conosciamo anche un po' o almeno ci possiamo fare un'idea un po' più precisa della loro traiettoria, della loro parabola, di quello che succede quando questi metaversi prima hanno un grosso successo, poi un po' si spengono, poi vai a sapere cosa può succedere. Che di solito è una traiettoria discendente, poi noi abbiamo anche scelto Ultimo Online favorendolo rispetto a Second Life, che secondo me conoscete in di più, però più o meno il concetto è quello. Sì, questa è la versione più antica di quel concetto, dentro a Second Life, che vi ricorderete fu l'oggetto di una passione viscerale di tutte le redazioni dei giornali, quando c'era Second Life, Second Life era l'argomento per parlare di tecnologia, di giovani, di contemporaneità e di mamma mia cosa ci aspetta. E così per un po' ci fu questa passione. A questo proposito la memoria storica di Joypad, che è Alessandro Zampini, può ricordare un episodio che tiene insieme Second Life e della politica che mi ha raccontato dietro al palco, ho detto lo dobbiamo dire perché questo fa venire i brividi. Vai Zampa. Io non so se deponga a favore o contro il metaverso, non me ne sono ancora fatto un'idea, ma nel 2007 su Second Life Di Pietro, Antonio Di Pietro, dell'Italia dei Valori, fece un comizio. Non solo, alcuni dei suoi interventi furono di fatto invasi da degli attivisti di lega ambiente che si spostarono dalla loro isola verso quella di Di Pietro con dei cartelloni tipo le tue autostrade le puoi costruire solo qua, a gestire quest'idea Casaleggio. Non è una gag, è tutto vero. C'era Casaleggio, c'era Tonino ed erano su Second Life. Second Life che però poi si è completamente estinto e per questo Zampa diceva che un po', diciamo lo possiamo anche prevedere quella che è la traiettoria dei metaversi, quella che forse è già stata perché il metaverso era una keyword, chiamiamola così, che andava forte un annetto fa o durante la pandemia, diciamo così. Quella decina di miliardi bruciati da meta ha un po' raffreddato. Si è completamente estinta perché di fatto i metaversi hanno la tendenza a diventare interessanti quando la gente ci sta dentro e quindi quando sono un pochino il fenomeno del momento. Tutti vanno lì ed è fighissimo stare lì per condividere, compartecipare a questa, come posso dire, euforia collettiva. Ma nel momento in cui i metaversi poi non diventano più rilevanti, e forse quello di meta non lo è mai stato come almeno nelle previsioni di Zuckerberg, e nel momento in cui si svuotano e invece che il luogo della figaggine diventano il luogo della sfiga. La prospettiva di investire del denaro in un servizio che doveva essere un servizio per gli uffici e le aziende ha offuscato un pochino la vera natura del metaverso, che invece nella versione videoludica è molto chiara, perché centinaia di persone lavorano per anni per far uscire un gioco che costa un sacco di soldi. Nel caso dei giochi persistenti online bisogna mettere in piedi delle strutture, dei server, quindi quando esce il gioco è solo l'inizio di un investimento economico e di ore uomo ingente, e quindi quel problema, il fatto che come nei locali, succede a Milano, a Torino, ovunque, i locali hanno un momento iniziale, una curva di appetibilità e di figaggine, che poi fatalmente crolla. La stessa cosa succede per i metaversi, noi l'abbiamo sperimentato, ma noi non investiamo nelle aziende, raccontiamo i videogiochi, chi ha investito nelle aziende di videogiochi sa che il problema si è manifestato negli ultimi anni e che adesso, prima di mettere in piedi questi grandi mondi e questi metaversi, le aziende ci pensano diverse volte. Veniamo a un altro aspetto profetico, cui i videogiochi ci hanno abituato, essendone frequentatori, che è quello del... qui stiamo vedendo Metal Gear, no? Stiamo vedendo Metal Gear, quello delle intelligenze artificiali. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale, che direi in questi ultimi mesi è un pochino meno foriero di angosce, ma fino alla fine del 2023 era completamente inserito negli argomenti della paura, negli argomenti del timore del futuro. Dicevo, l'intelligenza artificiale è una cosa con la quale l'utente di videogiochi interagisce da decenni. Sì, prima ancora di interagire con l'intelligenza artificiale, io parlando di questo argomento volevo fare una parentesi tematica, perché l'intelligenza artificiale anche nel mondo dei videogiochi è stata utilizzata come elemento narrativo, appunto. Qui stiamo vedendo non tanto il gameplay, ma delle scene d'intermezzo della saga di Metal Gear, diciamo un gioco di spionaggio e di azione militaresca, sviluppato da Hideo Kojima. Sto pronunciando la G in maniera molto scandita, perché sennò Matteo si arrabbia, ma io sono toscano, c'è anche un po' di spirantizzazione, quindi mi perdonerà. Kojima, nell'atto di inventare il mondo di Metal Gear Solid, di fatto aveva immaginato che già dagli anni 70, perché il mondo di Metal Gear attraversa vari decenni, ci fosse una sorta di governo ombra che in realtà controllava la politica e la società, quindi un po' ha profetizzato pure un certo tipo di complottismo. In realtà negli anni 2000, all'interno del mondo di Metal Gear, questo governo ombra viene proprio sostituito da delle intelligenze artificiali, che inizialmente avevano l'obiettivo solo di filtrare dei dati e quindi insomma di elaborarli. Ma perché gliel'ha chiesto l'Europa di farlo. Esatto. E poi in realtà diventano autocoscienti e cominciano proprio a, in qualche maniera, a tirare le fila di tutto quello che è l'ordine mondiale. Forse questa attenzione per l'intelligenza artificiale appunto arriva dal fatto che, come diceva Matteo, con l'intelligenza artificiale i videogiocatori ci si sono sempre misurati. non si chiamava proprio intelligenza artificiale ma si chiamavano gli NPC, quindi personaggi non giocanti, con delle routine comportamentali. Quindi banalmente c'erano questi personaggi che reagivano in qualche maniera alle azioni del giocatore. Tant'è che, sempre per restare in Metal Gear, faccio un esempio rapido, nel quinto capitolo, se il giocatore eliminava tante truppe sparando la testa, l'intelligenza artificiale decideva di mettere degli elmetti agli avversari. Quindi, alla fine, i videogiochi, con queste routine comportamentali, con questo tipo di approccio ai dati e la reazione, insomma, ci si sono sempre misurati. Fra l'altro, alle volte, di fatto, essendo anche abbastanza lungimiranti e forse arrivando a sperimentare per la prima volta delle cose con cui oggi interagiamo, come per esempio gli home assistant. Io lo voglio citare, e qui adesso si comincia a vedere un po' qualche personaggio che interagisce con gli esseri umani, ma nel 2009, un altro visionario che si chiamava Peter Moulinot, che si chiama Peter Moulinot, immaginava questo project Milo, ovvero semplicemente un personaggio che compariva sullo schermo e interagiva vocalmente con l'utente e alla fine apprendeva, incrementava il suo vocabolario. Quindi, di fatto, molto tempo prima che nascesse anche Siri, con cui oggi tutti ci misuriamo, i videogiochi hanno un pochino provato a colonizzare quel mondo lì. Tra l'altro conoscendo i limiti dell'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale non nel contesto appunto dell'assistente personale, che in alcuni giochi era inserito immaginandolo come parte di una vita reale, ma nel contesto strettamente del videogioco, quindi in cui bisogna cercare di vincere, ottenere un risultato, fare qualcosa, l'intelligenza artificiale brilla per i limiti, non per le capacità. È implicito che quel nemico sia un tuo nemico e cerchi di farti del male, cerchi di batterti, sconfiggerti, ostacolarti, ma è anche implicito che tu, avendo un'intelligenza di un certo tipo, sia in grado, osservandolo, di capire qual è la sua debolezza, dove è prevedibile il suo essere artificiale. E quindi anche rispetto all'ansia viscerale che c'è nei confronti dell'intelligenza artificiale, chi fa i videogiochi, chi insomma i videogiocatori, sanno benissimo che non è nemmeno lontanamente ipotizzabile che l'intelligenza artificiale di un videogioco, poi ci saranno differenze quantitative nel futuro, diventerà incredibile, abbiamo nuove tecnologie oggi, ma non è ipotizzato che l'intelligenza artificiale sia più forte di te. Il contesto è proprio costruito perché l'intelligenza artificiale ci provi, ma in qualche misura non ce la faccia, e soprattutto parte della questione è impara in che modo non è come te, che è la questione sulla quale stiamo abbastanza impazzendo adesso sui grandi motori linguistici, capire in che modo queste macchine non ragionino come degli esseri umani e dei cervelli pensanti. Prima di chiudere, insomma, c'è da dire che i videogiochi per molto tempo, anche a livello tecnologico, hanno un attimino anticipato i tempi, nel senso che hanno immaginato anche motori di rendering molto prestanti, hanno dettato il passo dell'evoluzione tecnologica anche imponendo certi formati, banalmente il DVD, il Blu-ray disc e via dicendo. Quel tempo per i videogiochi è un po' finito, nel senso che l'industria oggi si trova un passettino indietro rispetto a quella tecnologica, tranne che nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dove invece i videogiochi stanno riscoprendo questo ruolo di apripista, tant'è che una delle aziende che sono più quotate in quest'ambito è proprio NVIDIA, che grazie alla potenza di calcolo delle sue schede riesce a sperimentare e quello che avete visto qua dietro sono un sacco di esempi di NPC che oggi hanno molte più sfumature comportamentali e magari apriranno il passo per qualcosa di nuovo. Adesso veniamo al vero motivo per cui siamo qua, cioè una scusa per Matteo Bordone per parlare diffusamente di Death Stranding, di The Last of Us, di Hideo Kojima. Abbiamo già citato una volta il genio scintillante di Hideo Kojima, che è uno molto avanti, ma ovviamente è un po' come dire un regista amatissimo, non è che tiri la carretta di tutta Hollywood, che ne so, l'antimos, fa il suo e va bene. Hideo Kojima è un po' questo, per quanto abbia enorme successo, è uno sperimentatore, a un certo punto noi ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa, le città erano dei luoghi vuoti, nei quali si muovevano solo le connessioni fra un punto e l'altro, rappresentate da fattorini. E casualmente si potrebbe dire, ma anche no, il mondo dei videogiochi proprio in quei mesi aveva conosciuto una nuova esperienza videoludica, questo gioco Death Stranding di Hideo Kojima, che racconta una storia molto ricca sul piano narrativo, ma poi nella sostanza immagina un mondo in cui dopo un evento traumatico inatteso, le persone hanno perso l'abitudine alla relazione, sono tutte chiuse nelle loro case, nei loro bunker, e questo veniva dall'osservazione delle persone molto avvezze alla vita online, lontane dalla vita fisica, che Hideo Kojima aveva così trasformato nella fibra narrativa del gioco, gli unici che si muovono sono i fattorini, tu sei un fattorino, è esattamente quello che stavamo vivendo, quindi chi è appassionato di videogiochi in quei mesi era in casa, con fuori le ambulanze, deserto, che giocava a un gioco in cui al di là delle ambulanze ti muovevi nel deserto ed eri l'unico elemento di connessione fra pezzi di un'umanità tutta rotta, ferita, in un contesto post-traumatico. Questo evidentemente in una certa misura è quella che gli scienziati chiamerebbero una botta di culo, però è anche ovviamente la capacità di cogliere quegli elementi che nella società sono più delicati rispetto a questioni tecnologiche di relazione con la tecnologia, cioè una riflessione sul solipsismo dell'uso della tecnologia è diventata uno specchio particolarmente grande nel momento in cui eravamo costretti a stare soli e a non fare nulla, però è nei videogiochi che è successo, il cinema, le serie, la letteratura, sono arrivati tutti con mesi, anni di ritardo a raccontare un evento così traumatico che ci siamo resi conto, nessuno lo vuole rivivere. Quando qualcuno cerca di raccontarci pezzi della pandemia, del lockdown, la nostra reazione è cero, lasciamo perdere. Questo è uno dei pochi modi in cui si può rivivere quello, perché non è esattamente quell'esperienza, è una versione mutuata, narrativa, in cui si fanno cose invece di stare a casa con l'angoscia. Visto che abbiamo parlato di pandemia, nelle immagini che vedete scorrere qua dietro c'è anche un gioco uscito nel 2013 originariamente che invece aveva previsto una pandemia legata a un salto interspecie, di un fungo, che invece che attaccare gli insetti aveva iniziato ad attaccare gli umani e lasciato completamente in ginocchio la società. Ecco, una cosa che gli abbonati del Post e gli ascoltatori dei podcast del Post forse hanno scoperto recentemente in una puntata di Globo dedicata al genocidio ruandese si parla del fatto che le famiglie distrutte dal genocidio, è morto un milione di persone su dieci, si sono trovate senza i pezzi, non sono state più capaci di avere dei nuclei familiari, molti sono rimasti soli, oppure in due su sette, otto, dieci che erano prima, perché erano famiglie di Tuzzi, quindi sono state massacrate, e hanno costruito delle famiglie d'elezione, delle famiglie, diciamo, d'emergenza, che però diventano delle famiglie d'affetto e in una delle ultime puntate di Globo, forse l'ultimissima, si parla proprio di questo, di queste famiglie per scelta, di persone ferite, che dopo un trauma violentissimo devono ritrovare l'umanità. E The Last of Us è una serie che racconta questo, soprattutto il secondo episodio, che è quello che racconta questa tragica pandemia che si protrae molto a lungo nella sua storia, cioè dopo un po' di tempo, mostra delle comunità che hanno ritrovato che il fulcro di tutto è proprio l'umanità, le regole sono saltate dal punto di vista della famiglia, non è più tradizionale, è una famiglia completamente plastica, le relazioni, i generi, gli orientamenti, tutti sono liberi di essere quello che vogliono, nello spazio lasciato diciamo libero e vuoto dal disastro e quindi ricostruiscono un mondo che è fatto di scelte e non di destini, di volontà e di affermazione, non di tradizione, che diciamo, ovviamente i videogiochi sono fatti da persone, non sono fatti da macchine, però è il fulcro di un sacco di dibattiti attuali. Tra l'altro è anche una caratteristica comune in generale dei videogiochi online o multiplayer, alla fine, all'atto pratico, sei sempre tu giocatore che ti unisci ad altri e non sai esattamente qual è la provenienza di questi, non sai da dove vengono o che persone sono, però si è un po' uniti da, può essere una partita rapida a Fortnite con un obiettivo semplice o nei giochi con i mondi persistenti invece un percorso molto più lungo e complicato, è una cosa che i videogiochi fanno abbastanza da sempre. In tutto questo nel mondo di The Last of Us non c'è una cura, sono tutti spacciati, speriamo quindi che in questo caso i videogiochi siano stati un filino meno profetici. Sì, no ma non credo che, qui non ci sia, in The Last of Us non c'è neanche Big Pharma che prova a mettere una pezza, non c'è proprio la civiltà, non c'è neanche la critica a Big Pharma, niente, neanche Big Pharma, non c'è nulla, però invece nella realtà c'è tanto, quindi non siate, cioè non prendete da questo racconto di videogiochi gli aspetti più drammatici, anche se se ci avete osservato finora e magari voi non fate videogiochi, noi parliamo di videogiochi, siamo appassionati, abbiamo il pubblico affezionato e pensate, eh, beh, certo, arriva quello che fa le borse in pelle a mano e ti dice che la pelletteria è straordinaria, è fantastica, tu dici, ma a me piace il nylon, è chiaro che ognuno tira acqua al proprio mulino, invece no, noi vogliamo dirvi che i videogiochi sono sì nel bene ma anche nel male a volte profetici e a questo proposito ai videogiochi è successa una cosa che era una prova generale di quello che poi è successo prima molto negli Stati Uniti, prima molto in rete, poi negli Stati Uniti pesantemente e adesso risuccede con grande scioltezza a ogni pie sospinto. Sì, al termine di questo blocco finiremo per parlare dell'assalto al congresso del 6 dicembre anticipando di qualche ora Stefano Nazzi. Beccati questo Stefano Nazzi. Siamo pre siamo pre Nazzi di poche ore perché anche lui ne parlerà. Qualche anno fa c'è stato il Gamergate. Zampa, che cos'era il Gamergate? Esatto, dietro di me la donna che state vedendo parlare si chiama Anita Sarkesian è stata una delle vittime principali una delle prime del Gamergate che è stata una campagna d'odio feroce condotta da numerosi gruppi di persone che si sono in un secondo momento poi saldati di fatto alla destra estrema americana e hanno fatto partire questa violenta campagna di fatto da un da un pretesto da una teoria del complotto che voleva una sviluppatrice un piccolo passo indietro tutto nasce da un post un post su un sito di un un ragazzo che viene lasciato dalla dalla fidanzata lui la prende male e anche sti cazzi ha una reazione violentissima e feroce scrive delle cose abbastanza indicibili ma soprattutto false sulla sua ragazza che era una sviluppatrice da qua nasce una teoria del complotto che mette prima in discussione la diciamo correttezza della stampa della critica dei videogiochi nei confronti poi degli sviluppatori ma poi si incrosta si ingrandisce diventa un pastone di elementi tendenzialmente misogini che portano a minacce verso Anita Sarkesian che abbiamo visto prima questa sviluppatrice si chiama Zoe Quinn e da lì ne nasce proprio un rigurgito reazionario mi viene da dire uno slancio non so come dire un balletto reazionario un flick flack una ginnastica artistica nemmeno molto nascosta con dietro questo questo diciamo questo pretesto della serietà della correttezza che è un po' come quando si dice no i matrimoni delle coppie omosessuali no ci sono i bambini ecco allo stesso modo i bambini di questo complotto fascista erano la serietà la correttezza e la difesa dei videogiochi in realtà si è scoperto e adesso lo sappiamo che i contesti di condivisione di contenuti online possono essere dei terreni di coltura simili alla cesta del bucato quando butti qualcosa di umido magari i vestiti all'inizio erano stupendi ma puzzano di cagnuzzo poi tutti e quindi c'è questa capacità di questi argomenti che riuniscono le persone intorno all'odio al risentimento e anche a un elemento di militanza cioè tutti insieme combatteremo che sono tipici in genere dell'attivismo online nel Gamergate hanno preso proprio una direzione che andava dritta e serena verso dei moti come si può dire da reazionari orrendi che forse vogliono assaltare il campidoglio come dire esattamente questo è come se il Gamergate avesse un po' codificato una routine comportamentale che si sarebbe poi riproposta diverse volte successivamente quindi si parte da una teoria del complotto le image board i meme che diventano sempre più violenti comunità sempre più chiuse che iniziano a minacciare non solo in maniera sugli spazi virtuali ma anche poi nel mondo reale queste donne poi hanno dovuto usufruire di scorte fisse ovunque andassero per un po' alcune sono andate a vivere altrove si sono nascoste perché c'erano gli indirizzi di casa online è stata una campagna di odio violenza minacce di una ferocia e virulenza veramente impressionante soprattutto perché non c'era nessun legame fra queste persone e queste donne era veramente come nei casi delle campagne di discriminazione più classiche come il protocollo dei savi di Sion un punto su cui fare leva per dire ci stanno sulle palle tutte le donne che ci rompono il nostro giocattolo il nostro giocattolo sono i videogiochi ed è un giocattolo di maschi cosa già allora completamente falsa e falsa da decenni quindi quando poi abbiamo visto succedere delle cose come il 6 gennaio che adesso forse vedete dietro di noi e certe manifestazioni QAnon eccetera noi del mondo dei videogiochi proprio mentre eravamo dispiaciuti avevamo la faccia di chi la sa sono anni che li aspettiamo e il punto è che sono arrivati quelli del del Gamergate a un certo punto sono arrivati prima alla Casa Bianca e poi in un'altra veste al Campidoglio chissà se ci torneranno il problema è che queste tendenze non è che adesso si siano completamente estinte anzi ci sono di nuovo dei rigurgiti degli esempi da un certo punto di vista sono state quasi normalizzate adesso è un tipo di comportamento che insomma vedi sempre più spesso lo dai quasi per scontato siamo un po' di post verità per giustificare l'assalto armato da noi per commentare bisogna essere abbonati e pagare per una ragione perché si teme l'assalto al post nella zona via Tortona di Milano da parte degli abbonati di Isernia perché non facciamo un evento a Isernia quindi si evita questo tipo di rischio limitando un po' il commento libero ma a parte le cretinate è effettivamente un meccanismo che allora non si conosceva allora si pensava che le comunità online fossero soltanto dei luoghi e invece abbiamo scoperto che sono anche dei meccanismi che funzionano in un certo modo e che arrivano a un certo risultato in maniera abbastanza matematica cioè se non ci si oppone con dei rimedi strutturali la relazione di grandi gruppi di persone online viene poi dominata dai contenuti più violenti più virulenti militanti estremi e su questo adesso si sta un po' cercando di porre rimedio ma allora fu veramente uno schiaffone abbastanza impressionante per la chiusura possiamo togliere Trump che mi mette un po' non vorrei finire in troppe foto esatto 20 20 c'è scritto bene che non è questa volta sì forse può sembrare un 4 non so cosa possiamo fare noi siamo arrivati alla fine sostanzialmente abbiamo preso in esame appunto 4 tematiche in cui i videogiochi sono stati in qualche maniera profetici alle volte nel bene alle volte nel male e quindi il messaggio che vi lanciamo e noi siamo quelli piccini piccini ogni tanto i videogiochi vengono insomma considerati un argomento un pochino marginale sì sicuramente di importanza inferiore alla scrittura lineare due beccati questa beccati questa Luca Misculin ma ogni tanto ogni tanto ogni tanto magari provate a dare un'occhiata anche a quest'ambito sia mai che non possa uscire non partite dalle image board dell'estrema destra americana sia mai che non possa uscire qualche argomento interessante abbiamo per chi non ci avesse mai sentito noi di Joypad orgogliosamente lo dicevamo over 30 adesso siamo decisamente molto più over 30 di prima io quest'anno ne compio 50 nel senso che siamo un podcast di videogiochi dedicato anche a chi non gioca ha voglia di sentire parlare di questo argomento di sapere come vanno le cose esiste anche una newsletter che cura zampa sempre per abbonati del post che si chiama Manettini anche per non abbonati insomma ricordatevi di noi quando succedono delle cose pazzesche di solito un giovane della famiglia dice ma io l'avevo già visto e nessuno lo ascolta aveva ragione quel giovane e probabilmente ascolta Joypad cioè corri salta e spara grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille